allora buongiorno amici e vi volevo parlare di una cosa quali sono qual è l'equazione che ho visto funzionare in tutte le persone che ottengono super successo allora la prima cosa è che hanno una fede incrollabile cioè sono sicuri di ottenere quel risultato anche se quella cosa non è mai stata raggiunta se quella cosa non è mai stata fatta o loro non l'hanno mai fatta e quindi questa fede incrollabile credo che sia la parte più importante dell'ottenimento di un risultato quindi la domanda che mi devo fare è come posso ottenere una fede incrollabile in quel tipo di risultato la seconda cosa che comunque sono persone che fanno passi nella direzione dei loro sogni cioè della direzione dell'ottenimento di questo risultato quindi ogni giorno fanno qualcosa migliorano crescono studiano fanno azioni specifiche per ottenere quel risultato l'altra cosa è che queste azioni molto spesso le vengono tirano fuori ti tirano fuori dalla comfort zone dalla zona di comfort perché è chiaro che se devi raggiungere un risultato straordinario non lo puoi fare rimanendo nella tua zona di comfort perché vuol dire che allora non ti stai spingendo abbastanza oltre quindi guardate tutti i grandi persone ma anche le persone che ottengono risultati in qualunque campo anche nello sport nella vita privata e via dicendo è fondamentale proprio questa cosa del essere consapevole di uscire dalla zona di comfort e l'altra cosa è che fanno azioni consistenti e si sforzano in modo super consistente anche se i risultati non non arrivano cioè vanno 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 anche se il risultato non arriva che è quello che succede con un bambino se ci pensate nell'imparare a camminare cade si rialza cade si rialza cade si rialza non è che bambino cade dice no cazzo non c'ho più voglia perché la vita per me è stata difficile e quindi smette no sta lì e continua a picchiare finché a un certo punto trova l'equilibrio ecco credo che questa cosa sia la parte importante del dell'ottenimento risultati quindi fede incrollabile capacità di spingere anche se non si vedono i risultati uscita dalla zona di comfort fare azioni spinte sempre nella direzione dei nostri sogni e a questo punto la fede incrollabile più uno sforzo straordinario ci porta a casa al risultato sempre io sono alfio bardolla e per chi non mi conosce ho la più grande società in europa di formazione finanziaria si chiama alfio bardolla training group siamo quotati in borsa quindi le cose che diciamo dovrebbero essere vere dovrebbero perché poi è sempre è sempre poi ci sono tante cose che riguardano le opinioni delle persone e quindi questo è il mio piccolo tip per cercare di vivere una vita dove il denaro poi non sia più un problema ciao